Oggi visiteremo il salone circolare che fa parte della costruzione generale della torre. Siamo al primo piano della Villa Cerutti e troveremo alcuni dei capolavori della collezione. In particolare troveremo uno dei miei dipinti preferiti. Si tratta di una Madonna con bambino di Francesco Francia dell'inizio del Cinquecento e il tempo di questo dipinto è un tempo compresso che comprime la nascita di Cristo con anche la vita eterna successiva alla vita terrena di Cristo perché il piccolo bambino tiene in mano un globo, quindi è al contempo una Natività e un Salvatore Mondi. In questo stesso ambiente troviamo i grandi capolavori del Batoni e molto amati dal ragioniere, questi dipinti parlano delle arti, parlano della musica, dell'architettura, del teatro e quindi parlano di quanto era proprio importante e a cuore del ragioniere Ceruti come amava farsi chiamare. Si tratta di uno spazio alquanto appollineo, sopra lo spazio anche dionisiaco che abbiamo visitato nelle precedenti puntate, cioè la Sala della Musica. Buona visita! Siamo nel Salone Circolare di Villa Cerruti, siamo al primo piano e siamo nel cuore dell'edificio, quello che si trova all'interno della torre cilindrica che caratterizza questa struttura architettonica della fine degli anni Sessanta. Il Salone Circolare del primo piano è caratterizzato da questa decorazione settecentesca che ha sostituito quella originaria in stile provenzale ed è stata, come dire, costruita, realizzata appositamente per accogliere alcune delle opere più importanti e più di pregio della collezione. Quello che potete vedere sin da subito è che la stanza si caratterizza per una geometria, per una simmetria molto ricercata, evidente soprattutto nella parete di fondo con questa comode Luigi XV con disegni cinesizzanti e questi eleganti decori in bronzo che la attraversano. Accanto alla comode due sedie con due poltrone con i rispettivi poggiapiedi e poi al di sopra della comode su questo piano in marmo portoro troviamo un piccolo tabernacolo degli anni 30 del 300 opera del fiorentino Jacopo del Casentino e accanto ancora, sempre a rispettare questa simmetria, due vasi Luigi XV con questa ceramica in se la donna e questo colore particolarmente raffinato fra l'azzurro e il verde. Ma il perno, il cardine di tutta la parete è costituito da un dipinto di inizio 500 datato a circa il 1505 opera del pittore bolognese Francesco Francia. Il dipinto rappresenta una Madonna con bambino, un angelo e San Giovannino in questo paesaggio agreste che degrada verso il fondo con queste tonalità azzurre. L'opera è importante per varie ragioni, non soltanto perché è un'opera, come dire, centrale nella produzione di Francesco Francia, ma anche perché i suoi passaggi di proprietà sono dei passaggi di proprietà noti almeno dall'Ottocento, dalla seconda metà dell'Ottocento in avanti e che testimoniano l'attenzione che Francesco Federico Cerruti aveva per le opere che acquistava. Alla fine dell'Ottocento quest'opera faceva parte di una delle quadrerie più importanti di Parigi, quella del Bacchiere e Conte Svizzero de Purtalè e poi dopo vari passaggi di proprietà nella seconda metà del Novecentro entra a far parte delle collezioni del Chrysler Museum di Norfolk negli Stati Uniti ed è proprio da questa precedente proprietà che Cerruti l'acquisterà negli anni Novanta. Una curiosità, l'opera entrò a far parte della collezione con una sontuosa cornice rinascimentale ma che in realtà era un rifacimento di inizio Novecento. Questa cornice così pesante, così sontuosa dal punto di vista decorativo non si addiceva bene al luogo in cui Cerruti avrebbe voluto inserire questo dipinto e quindi scelse di sostituirla con una cornice più leggera che quella che vediamo attualmente intorno all'opera. La precedente cornice però fu conservata ed è per noi molto importante perché sul suo retro porta, come dire, la testimonianza dei precedenti passaggi di proprietà con alcune etichette che testimoniano appunto le provenienze precedenti e anche il passaggio in alcune mostre. Ai lati dell'opera di Francesco Francia si trovano due allegorie celebri e importanti nella produzione di Pompeo Batoni, pittore che nella Roma di inizio Settecento fu uno, come dire, degli intellettuali e degli artisti centrali sia per la scena culturale che per quella artistica. Innanzitutto era centrale per quel grande processo che nel Settecento ha una fioritura importante che è il Grand Tour e quindi questo viaggio di istruzione che gli intellettuali, i giovani intellettuali europei soprattutto del Nord Europa facevano attraversando le tappe più importanti dell'Italia ovviamente aveva un passaggio obbligatorio in Roma e Batoni era così celebre che molti di loro volevano farsi ritrarre proprio da lui. Batoni era anche importante dal punto di vista culturale perché era il direttore, per esempio, dell'Accademia di Nudo, dell'Accademia Clementina del Nudo e perché nella cultura classicista di inizio del Settecento il suo parere e le sue intenzioni erano considerate di grande carattura. Queste opere ci mostrano da una parte l'allegoria della scultura, della pittura e dell'architettura e dall'altra invece una figura di Apollo con le allegorie della musica e della geometria. Come riconosciamo queste allegorie? Perché sono ognuna accompagnata dai suoi attributi. Nell'opera con la pittura, la scultura e l'architettura che è datata al 1740 riconosciamo l'architettura che regge con la mano destra un compasso e un cartiglio. La pittura invece regge una tavolozza con dei pennelli alle sue spalle e si trova un cavalletto con un'Accademia di Nudo virile e invece la scultura, quella seduta in primo piano è la più riconoscibile perché tiene tra le mani un martello e a suoi piedi un trapano e una testa scolpita. L'altra opera invece che è datata al 1741 quindi di un anno successivo ci mostra appunto la figura di Apollo nella sua classica bellezza raffinata in questo nudo maschile in cui la pittura di batoni raggiunge uno degli esiti più importanti e più rappresentativi e poi la musica con due flauti e la geometria anch'essa con in mano un compasso. Sulla parete opposta a quella dei batoni e del Francia le cromie variano dalle poltrone rosse si passa a delle poltrone dai colori che tendono verso l'azzurro e il blu più intenso al centro di queste poltrone si trova un tavolino un tavolino di manifattura piemontese della seconda metà del Settecento è interessante non solo per le linee svettanti e sinuose che lo fanno sembrare un animale nella parte inferiore non a caso le gambe sono proprio decorate con questi zoccoli come se fossero le zampe di un caprone ma perché il piano superiore è decorato a decoupage e quindi ci sono questi inserti ritagliati e poi fissati sulla superficie con una verniciatura. Il tavolino accoglie una caffettiera sempre settecentesca opera di Giuseppe Balbino e di manifattura quindi piemontese con due zuccheriere e due tazzine coeve. Alle spalle invece un divano un divano rococò della seconda metà del Settecento anch'esso piemontese che si caratterizza per queste decorazioni linee policrome. Ne abbiamo già trovato uno simile in collezione si trova nell'ingresso della villa ed è di dimensioni leggermente più ampie. Questi due divani facevano parte di un set di sei divani che adesso è diviso fra collezioni pubbliche e private locali torinesi. Al di sopra del divano un dipinto del fiorentino Cesare Dandini datato alla metà del Seicento siamo al 1645-1650 un dipinto enigmatico perché è difficile riconoscerne l'iconografia. è intitolato ed è conosciuto con il titolo Due bravi perché rappresenta in effetti due giovani figure maschili connotate da alcuni tratti e alcuni oggetti. Una pistola fittamente decorata in argento quello in primo piano e invece un elmo tardomanierista con una figura di drago e una medaglia fra le mani quello in secondo piano. Non sappiamo che cosa significhi questa allegoria forse sulle possibilità si interroga sulle possibilità di ottenere fortuna materiale attraverso la guerra o attraverso il denaro o potrebbe come qualche studioso a supposto rappresentare il ritratto dei figli di Cosimo II dei Medici. Quello che sappiamo però è che Dandini ci fornisce alla metà del Seicento una figura una doppia figura con queste tonalità cromatiche preziosissime che vanno dall'azzurro fino al rosso intenso che non a caso sono anche le cromie della stanza in cui quest'opera si inserisce. Accanto a me invece un'altra scultura siamo in un'epoca differente siamo negli anni 30 del 1300 una scultura che ci porta nel nord della Francia una scultura in pietra calcarea che proprio come nel caso della Madonna con Bambino San Giovannino e Angelo di Francesco Francia ci mostra questo abbraccio fra la Vergine e il Gesù Bambino anche in questo caso come nel caso di Francia il Bambino è anche un salvator mondi perché regge fra le mani il globo terraqueo e fa il gesto della benedizione la cromia che vedete apparire sulla scultura è una cromia successiva non è una cromia risalente agli anni 30 del 300 ma fu apposta successivamente sulla superficie della scultura poltrone tavolino e divano poggiano sul tappeto più antico della collezione Cerruti datato all'inizio del 600 è uno dei tappeti cosiddetti polonesi realizzati in Persia con queste colorazioni molto più tenue rispetto a quelle accese rosse e blu profonde dei tappeti persiani ed erano dei tappeti realizzati per le famiglie aristocratiche europee del centro e del nord Europa e da qui deriva il nome appunto di tappeti polonesi completano la sala due dipinti una Madonna con bambino di Giuseppe Maria Crespi siamo all'inizio del 700 negli anni negli anni 30 quindi un'altra figura delicata della Vergine con il bambino fra le braccia e poi una natura morta con violino frutta e altri oggetti di Evaristo Baschenis siamo invece alla metà del 600 per il 100 per il 100 rappresento per il 500 anche